Sui 7,8 km sterrati della strada provinciale 172 del Colle delle Finestre siamo agli ultimi ritocchi in vista dell'arrivo dell'ultima tappa del Tour dell'Avenir, una corsa Under 23 a livello internazionale, la corsa che segnala i campioni del futuro. Siamo con Jacopo Suppo, vice sindaco della città metropolitana che ha la delega ai lavori pubblici. Il passaggio, l'arrivo del Tour dell'Avenir qui al Colle delle Finestre dove è già arrivato diverse volte il Giro d'Italia o comunque è passato e in futuro potrebbe arrivare o passare il Tour de France è un investimento sul futuro di questo territorio. Questo assolutamente sì, noi siamo molto contenti di ospitare questa importante gara ciclistica, stiamo parlando della gara ciclistica giovanile a tappe più importante del mondo. Il passaggio del Tour dell'Avenir completa un quadro sportivo rispetto al mondo del ciclismo che ha visto la città metropolitana di Torino protagonista quest'anno. È passato il Giro, è passato il Tour de France, è passato il Next Gen, il Giro dei Giovani e sabato accoglieremo qui al Colle delle Finestre anche il passaggio del Tour dell'Avenir. Una doppia tappa, domani i ciclisti partiranno dalle care lì e arriveranno a Condov in Val di Susa e sabato partiranno da Bobbio Pellice per arrivare ai 2176 metri del Colle delle Finestre. Una strada meravigliosa, epica per tutti gli appassionati di ciclismo, un vero e proprio punto di riferimento, ci ricordiamo la sgambata di Froome nell'ultimo Giro d'Italia e questo Tour dell'Avenir vuole essere un po' insomma una prova per capire se questa strada può essere protagonista anche del Tour de France, quello dei grandi, noi ce lo spieghiamo proprio. Il mio pensiero personale è il mio personale ringraziamento a tutti i tecnici della viabilità, a tutti i cantonieri che si stanno adoperando in queste settimane, in questi ultimi giorni per rendere la strada perfettamente fruibile. Non lo fanno solo per il Tour dell'Avenir, lo fanno tutti gli anni quando la riapriamo nel periodo estivo, è un investimento molto importante, ma venire quassù, guardarsi intorno e vedere le nostre montagne così belle e che sono fruibili grazie ad una strada di alta montagna così percorribile è davvero un fiore all'occhiello della nostra città metropolitana. Benedetto Silvestri è il responsabile del circolo cantoniere di Susa della direzione viabilità 2 della città metropolitana di Torino, tutti gli anni voi curate la riapertura di questo sterrato al traffico normale diciamo così ma poi in particolare la preparazione in vista dei grandi eventi ciclistici, quindi c'è stato già quest'anno la Gran Fondo Sestriere e Colle delle Finestre e adesso si prepara il fondo sterrato per il Tour dell'Avenir. Che operazioni si svolgono in queste ore? Sì, diciamo che le operazioni sono quelle che comunque noi svolgiamo tutti gli anni all'atto della riapertura della strada. Le operazioni consistono comunque nel rendere fruibile la stessa strada che comunque non è solo lo sterrato ma è anche tutta la parte asfaltata della 172 almeno per la parte della zona della Val di Susa ma lo stesso mio collega Giannini Vasce lo farà per la Val Chisone. Dicevo le operazioni da fare sono quelle di pulizia, di taglio erba innanzitutto quindi pulizia della strada, della parte asfaltata e invece per la parte sterrata e riportare del materiale stabilizzato e rullarlo in modo tale che si renda più percorribile la strada. A lato dell'aria apertura ovviamente, normalmente quasi tutti gli anni abbiamo dei piccoli muretti che sicuramente avrete visto, muretti a secco che vanno ripristinati e sempre uno sterrato che è fatto di un materiale macadam, quindi una strada bianca che deve essere sempre costantemente rullata per poter permettere comunque il regolare circolazione della bicicletta stessa perché se no ovviamente con delle buche o anche del materiale che non rende fruibile la circolazione diventa poi difficoltoso perché la bicicletta stessa poi potrebbe offorarsi oppure fare in modo che magari possa cadere o cos'altro. Quindi diciamo il fondo deve essere fatto in modo tale che sia percorribile alle biciclette soprattutto. tutto ecco.